Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di B-Sage B-Sage come lo volete chiamare, ci troviamo sempre qui su Y E stiamo andando a fare i prossimi due livelli che abbiamo sbloccato Allora, dove siamo arrivati? Fino alla zona 11 ragazzi Quindi zona 10 e zona 11 da conquistare Allora, andiamo a provare l'e-repeak, vediamo un po' dove andiamo a finire Ok, allora, che devo fare? Destroy 80% of T-S Sai spaccarlo subito? Così, ok E ci devo fare un rinforzo centrale Vediamo un po' se faccio così E se metto Perfetto, ha retto L'ho rinforzata abbastanza, perfetto Allora, posso fare una bella cosa, io vado leggermente avanti E proviamo a fare... Com'era il pulsante di sparà? È quasi fattibile Ancora più avanti Non è che ci vorrebbe proprio tantissimo, eh Voglio però fare una cosa No, no, si sta spaccato No, si spacca Non è vero, non si è spaccato Ok Qua si può salire in qualche maniera Le ruote sono troppo larghe No, però era fattibile dalla spara Oh Ah, matto Ce la posso fare? Vediamo un po' Ok No, però non lo rompo tutto Devo fare in modo di salire là sopra allora, raga Così possiamo forse riuscire a salire sulle scale Perché a noi interessa più che altro quello Ok Vediamo un po' se riusciamo a salirci adesso Siamo molto più veloci perché siamo molto più leggeri Allora, conviene fare qualche manovra Vai, vai, che riusciamo a salire Vai, che ce la stavamo a fare Dai, non ci credo Aspetta, prendo un po' di rincorsa, va Dritto per dritto, rincorsa Insomma, ci devo mettere un altro motore e un'altra spinta Eccolo, eccolo, eccolo che sale No, mi sei rotta una ruota No, non ci credo No, dai È fattibile, è fattibilissimo Sembra se non faccio le cappellate come ho fatto mo' Però è fattibilissimo Vai in avanti No, non ti rompe, no Niente Sì No, aspettate, ci devo andare proprio per i shesami Che cosa era successo? Avete visto? Aspetta un po', faccio così Uh, no Che cosa è successo? Che cosa è successo? Se gira di qua, devi girare di qua Giusto? Per logica Ok, c'è la pendenza verso di qua Sto cavolo del robot Niente No, non è possibile sta cosa Voi la prendo da di qua Eccolo Ok No Gira Di qua Niente Di sopra c'è la pendenza per di là Di qua c'è la pendenza per di sotto Mannaggia la miseria Perché vola così? Perché si sta il peso dietro Va davvero appeso sto cosa Andiamo un po' Oh Dov'è? Ma Che modo di volare hai? Ah Chiappa lo stesso Pure figo Vai Rota 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 No, non rota troppo Vieni qui Perfetto Abbiamo attaccato la bomba Ok Possiamo provare così Sì, però se distrugge tutto Ole Tac E vado lì Peggora maledetta Dai Perdo i pezzi così Ok Più dritto Sempre gli stessi Devo mettere Un qualcosa di più Di qua Di qua Uno in più di qua Un cannone in più di qua Devo mettere Così andiamo precisi Ok Vediamo un po' Ta 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 E Cannone Reggi Oh ha retto Zitto zitto No Non ha retto Per il cavolo Aspetta Aspetta Può ancora reggere però Dai 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 fammolo così Ehm Fini allo stesso punto Andiamo eh E dovrei girare un po' Il tiro forse Tipo così Come sta succedendo Adesso da solo E rompe solo quel lato Ci ho fatta Ci ho fatta Ragazzi ho conquistato Un altro livello Spero vi sia piaciuta La partita di oggi Spero sia stata divertente Spero vi piaccia il gioco E come al solito Vi invito a lasciare un bel mi piace Qua sotto a condividere il video E dopo questo Posso diviso tanto Ci vediamo alla prossima puntata Di Bsig Ciao